Perché tu non vendi? Voi sapete che se lavorate per una persona e gli dite quanto sei bello, quanto sei intelligente, mamma mia, sei un leader fantastico, sei un leader fantastico, sei un leader fantastico, sei un leader fantastico, potete vivere di rendita per un po'. Un po', un po'. Naturalmente andare a dire al proprio datore di lavoro guarda che stai sbagliando tutto, ma guarda, guarda cosa dice la gente, ma cosa dici? Eh, sfido chiunque andare dal proprio datore di lavoro, anche se voi siete dei dirigenti d'azienda, non potete andare a dire al padrone che vi chiede perché non si vende, perché il prodotto fa schifo, glielo potete dire? No. Se il proprietario dell'azienda vi dice ma perché tu non vendi? Perché tu non vendi? Perché tu non vendi? Eh, perché tu hai i prezzi più alti di mercato, il prodotto non è da quei prezzi lì, il prodotto non ha queste caratteristiche per sparare un prezzo così, pertanto o abbassi i prezzi o te lo vendi tu. Glielo potete dire al direttore, al proprietario dell'azienda? Ovviamente no, ovviamente no, ovviamente no, ovviamente no. E quelli che si credono poi in grande fiducia, io sono, eh, io ho fiducia, il proprietario con me ha una grande fiducia, io gli posso dire le cose come stanno? Sì, provate, provate a dirglielo, no? Il proprietario di un'azienda vuole sempre essere adulato, perché si crede al centro dell'attenzione è sempre essere adulato, perché si crede al centro dell'attenzione perché si crede al centro dell'attenzione ve lo dico per esperienza personale, eh, 13 o 14 anni come direttore commerciale, direttore vendite, capo area, è così, no? È così. Per quanto voi vi sentiate a io sono, vicino alla proprietà, la proprietà confida in me, provate a dirgli che stanno facendo una cretinata come vi cacciano nel giro di una settimana, provate.